Nuova risalita della curva della pandemia di coronavirus in Puglia. A confermarlo è il bollettino epidemiologico aggiornato diramato dalla regione nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 dicembre, e che segnala 1.314 nuovi contagi accertati sulla base di 9.346 tamponi. Prima, per numero di casi, anche oggi è la provincia di Bari, che ne conta altri 486, seguita da Foggia con 320 e da Taranto 168. Sono invece 136 i nuovi contagi rilevati nella BAT e poi 102 nel Brindisino e 90 nel territorio di Lecce. Cinque contagi si riferiscono infine a residenti fuori regione, mentre sono sette quelli di provenienza non nota. I casi covid registrati in Puglia dall'inizio dell'emergenza sanitaria salgono così a quota 78.426. Si abbassa rispetto ai giorni scorsi il numero dei decessi, 29 nelle ultime 24 ore. Provincia più colpita è oggi la BAT, dove ci sono state 11 vittime, e poi 7 in quella di Bari, 5 nel Foggiano e 2 rispettivamente nei territori di Brindisi, Lecce e Taranto. Il bilancio dei morti nella regione a causa del virus sale così a 2.130. In leggera risalita, dopo il calo di ieri, il numero dei casi attualmente positivi, che sono in tutto 52.834. Si conferma in lieve diminuzione invece il dato sui pazienti ricoverati in ospedale, che ad oggi sono complessivamente 1.649, 4 in meno rispetto al precedente bollettino, di cui 174 in terapia intensiva. E si registra infine un nuovo netto incremento dei negativizzati, che diventano 23.462. Sono 1.066 le persone guarite solo nelle ultime 24 ore.